Buongiorno e benvenuti al secondo incontro sull'attività formativa per le scuole sulla cultura della legalità e della sicurezza sui loghi di lavoro promossa dalla prefettura di Brindisi. Il modulo di oggi si intitola i numeri della sicurezza e la normativa della sicurezza come per il primo incontro sono collegati con noi in streaming tutti gli altri istituti professionali della provincia. Interverranno oggi i relatori avvocato Diego Mangia per Confindustria Francia, dottoressa Marina Convertini ingegner Bergati per rispettorato territoriale del lavoro e il dottor Francesco Picci per l'INAIL. Ringraziamo inoltre per la loro presenza molto gradita il dottor Gatto e la dottoressa Olivieri a cui adesso passo la parola per un saluto, un'introduzione veloce. Buongiorno a tutti, buongiorno alle professoresse, buongiorno a voi ragazze e tutti quelli che sono in collegamento. Un saluto naturalmente ai relatori che sono i partner di questo progetto che oggi segna un'altra tappa, proseguiamo in questo cammino che abbiamo avviato in collaborazione appunto con Confindustria, con l'Ispettorato territoriale del lavoro, con l'INAIL, con il Vigio e il Fuoco perché l'obiettivo di quest'anno su cui vorremmo invitare le scuole a riflettere anche come dire consegnare un po' di pillole di conoscenza e quello della cultura della sicurezza, nella consapevolezza che è un tema probabilmente difficile e ostico da comprendere ma che con le illustrazioni, le narrazioni che verranno fatte dai vari componenti di questo progetto sicuramente riusciranno a dare a voi ragazzi le informazioni necessarie perché cultura della sicurezza significa essere consapevoli dei comportamenti che ciascuno di noi deve avere in un ambiente di lavoro, a cominciare anche dalla scuola probabilmente ma poi nei contesti lavorativi di cui voi sarete protagonisti domani perché le condotte, i comportamenti corretti sono la principale arma che ci consente appunto di contrastare gli infortuni sul lavoro di cui oggi verranno fornite le necessarie illustrazioni. Quindi io non sottraggo tempo ai relatori e vi auguro il buon lavoro. Buongiorno a tutti ragazzi, docenti e dirigenti scolastici in collegamento. Io sono il dottor Francesco Picci, sono il responsabile della sede INAIL di Brindisi. Come vedete oggi il modulo per il quale interveniamo come INAIL riguarderà le statistiche degli infortuni sul lavoro, la formazione e la prevenzione. Sono dei concetti fondamentali perché oggi vi dico subito quale sarà il mio obiettivo. Non è quello di farvi perdere tempo con l'illustrazione di statistiche e di numeri che potrebbero anche annoiarvi. Il mio obiettivo principale è quello di capire attraverso quei numeri, attraverso quelle statistiche, qual è il fenomeno infortunistico che ogni anno registriamo in Italia, quindi qual è l'intensità del fenomeno che ci porta sempre e soltanto, non solo come INAIL ma anche come tutti gli enti che si occupano di sicurezza, ci portano comunque ad avere questa particolare attenzione sugli infortuni ma soprattutto sulla formazione e sulla prevenzione. Dite voi INAIL, innanzitutto chi è l'INAIL? Perché l'INAIL si interessa anche di formazione e di prevenzione? Allora partiamo da un semplice concetto, parliamo di un assicurazione, INAIL è l'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. L'INAIL è un ente che comunque assicura tutti i lavoratori che svolgono un'attività manuale, che svolgono un lavoro perché è importante l'esistenza, perché è un ruolo fondamentale nel welfare. Molti sentono parlare soltanto di IMS, ma l'INAIL è fondamentale perché? Proprio perché è un'assicurazione obbligatoria costringe i datori di lavoro ogni volta che assumono un dipendente lo costringono ad assicurarsi perché poi in questo modo e soltanto in questo modo scatta quella assicurazione, quell'attenzione, quella protezione che l'INAIL mette ogni giorno in campo per garantire una tutela globale e integrata nei confronti di tutti i lavoratori che purtroppo si fanno male nell'espletamento delle proprie mansioni. Quindi questa è l'importanza dell'INAIL. Che detto così può sembrare un concetto semplice, limitato, ma io andrò oltre perché oltre all'assicurazione vi dimostrerò che l'INAIL comunque si interesserà anche e si interessa tuttora di formazione e di prevenzione perché soltanto attraverso queste due attività riusciremo o tentiamo o cerchiamo cosa? A perseguire continuamente l'obiettivo principale che si chiama abbattimento o riduzione del fenomeno infortunistico. Non si fa, non si combatte con le parole, gli infortuni non si combattono con le parole, non si combattono con i principi, con la normativa, gli infortuni si combattono soltanto se noi riusciamo innanzitutto a capire come avvengono e poi riusciamo a promuovere la cultura della sicurezza ragazzi. Questo è l'ambiente ideale. Oggi siamo nelle scuole e nelle scuole si parla di cultura ma in questo caso oggi dobbiamo parlare di cultura della prevenzione perché se riusciamo a capire questo riusciremo a comportarci anche voi un domani vi troverete a comportarvi quando sarete assunti e io ve lo auguro al più presto quando vi troverete nel mondo lavorativo dove cambia tutto dove non c'è più la protezione della famiglia della scuola nel mondo lavorativo vi troverete ad affrontare dei problemi enormi e allora se avete dentro dentro la cultura della prevenzione che vedrete come si estende questa cultura anche a partire semplicemente dall'utilizzo dell'automobile dall'utilizzo della bicicletta dall'utilizzo dei monopattini perché vedrete che pure lì si annoverano una marea di infortuni che si potrebbero evitare come semplicemente stando più attenti semplicemente seguendo certe regole che voi dovreste essere meglio di me perché quando uno si mette a guidare l'automezzo la macchina del monopattino deve stare attento a tutto non può trascurare i particolari deve avere dentro questa idea questa cultura che lo porterà a comportarsi sempre bene nella vita oggi noi parleremo solo di questo io non vi voglio non vi farò vedere le statistiche ma non vi voglio annoiare con le statistiche però ve le farò vedere perché capirete attraverso le statistiche quant'è importante comportarsi bene quando uno va a lavorare anche qui a scuola quando andate a fare palestra dovete stare attenti a come vi muovete a come svolgete gli esercizi dovete tenere sempre bene in mente altrimenti succede quello che succede tutti i giorni anche a scuola accadono degli infortuni lo sapevate quanti ragazzi si infortunano quando fanno la ginnastica una marea quanti cadono dalle scale perché è suonata la campanella e vogliono andare via perché funziona così bisogna avere sempre dentro la cultura della sicurezza ve la porterete sempre dietro soltanto così oggi io potrò dire che il mio intervento è servito a qualcosa altrimenti abbiamo perso tutti quanti tempo e ora vediamo io sicuramente vi voglio risparmiare i concetti le nozioni però comunque ho l'obbligo di ripetere e di farvi capire chi è l'Inail è un'assicurazione obbligatoria ve l'ho detto già obbligatoria vuol dire che comunque i datori di lavoro che assumono dipendenti devono pagare un premio assicurazione premio il premio a chi serve l'Inail acquisisce i soldi attraverso i versamenti che fanno i datori di lavoro e con quei soldi in maniera autonoma senza pesare minimamente sullo stato in maniera autonoma paga tutto ciò che serve a garantire una protezione una tutela al lavoratore che si infortuna quindi il rapporto è a tre il datore di lavoro che paga il premio il lavoratore che comunque fa parte del rapporto di lavoro e l'Inail che gestisce l'assicurazione per far sì che attraverso questi soldi che incassa dai datori di lavoro siano forniti o fornite tutti i servizi di questo mondo vedrete quali ai lavoratori perché il lavoratore è la persona più debole nel rapporto di lavoro e la persona lavoratore che l'Inail ha al centro della sua missione se non ci fosse l'Inail sarebbe un guaio perché eh perché andrebbe avanti solo chi si è assicurato per fatti suoi e invece c'è l'Inail cosa c'è l'Inail che è un ente del welfare stato sociale cosa vuol dire parola inglese vuol dire che meno male che c'è l'Inail perché almeno chi lavora sta tranquillo che se per puro caso si fa male beh non mi devo preoccupare perché non perderò un giorno di lavoro di retribuzione e se mi rimane un danno che non cammino più o se addirittura muoio come vedrete perché purtroppo si muore anche per lavorare beh a quel punto scatta un' ulteriore tutela nei confronti dei superstiti nei confronti della moglie spesso rimane la il conige dei figli eccetera 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 andiamo avanti quindi sono tre le parti chi assicuriamo un attimo indietro un attimo indietro grazie assicuriamo tutti non solo i lavoratori dipendenti perché uno pensa già al concetto ma i lavoratori sono tutti i lavoratori dipendenti di questo mondo ok ma non basta perché l'Inail assicura anche gli artigiani assicura anche i coltivatori diretti addirittura gli sportivi professionisti lo sapevate i giocatori di serie A B C sono assicurati all'Inail quando si fanno male che si rompono una gamba c'è l'Inail che paga ragazzi meno male e poi scusami tirocinanti e staggisti avete sentito parlare di tutti gli infortuni che accadono ai ragazzi delle scuole a voi speriamo di no ma nel fiuli in tutte in parecchie regioni sono accadute gli infortuni addirittura mortali di staggisti di tirocinanti beh ovviamente sono tragedie queste però noi dobbiamo cercare attraverso i concetti che impareremo oggi ma soprattutto alla mentalità che cercheremo di acquisire oggi un domani ma anche già da adesso nella scuola dovete imparare a gestire la vostri compiti le vostre mansioni in maniera sempre intelligente e mai così come viene viene i soci delle società le casalinghe dimenticavo le casalinghe chi lavora in casa è assicurato dall'Inail con appena un premio annuale di 24 euro 24 euro all'anno l'Inail protegge anche le casalinghe se si fanno male ovviamente no e ce ne sono incidenti in casa no anche uno che sta pulendo i lampadari sulla scala la scala si muove e cade a terra e mi rimane paralizzata a vita la casalinga e se non ci fosse l'Inail che farebbe arrivederci no c'è l'Inail che paga i danni permanenti i danni permanenti detto questo è il nucleo dell'assicurazione acquisisco i premi e pago i lavoratori infortunati con tutte le prestazioni di questo mondo che vi farò vedere così velocemente ma poi l'Inail essendo o avendo meglio come obiettivo principale come missione è una sola abbattimento del fenomeno infortunistico allora abbiamo accompagnato il nucleo centrale dell'assicurazione ma siete assicuragione potete fare anche formazione e prevenzione e che assicuragione siete dove vivete si l'Inail pur essendo un'assicurazione fa anche promuove la cultura della sicurezza attraverso la formazione e poi vedrete come non a parole e con la prevenzione ma sempre a parole vedrete come e quindi come vedete è una tutela a 360 gradi perché se io dico che faccio prevenzione assicurazione a questo punto e poi garantisco il lavoratore in tutto e per tutto non solo a livello economico ma anche e questa è un'altra novità anche come reinserimento sociale e lavorativo ragazzi se una persona si fa male e si rompe le gambe secondo voi il suo stato psicologico il suo stato fisico qual è distrutto e lo lasciamo lì abbandonato gli diamo i soldini ok arrivederci no perché l'Inail si adopera anche per vedere se lo rintroduciamo nel mondo del lavoro perché possibilmente il datore di lavoro di prima non lo vuole più quello si è rotto le gambe faceva il muratore come fa fare il muratore e allora beh allora l'Inail si interessa anche di vedere sempre con la collaborazione del lavoratore che magari vuole trovare un altro lavoro e non vuole fare nulla perché comunque potrebbe stare bene perché l'Inail gli pagherà una rendita vita però il lavoratore dice no io ma io ma io vorrei comunque lavorare eh ma il datore di lavoro vecchio non ti vuole più tu eri muratore senza gambe che fai nulla e allora eh beh vediamo contattiamo la provincia contattiamo comunque le associazioni di categoria per vedere se hanno la disponibilità magari a quel lavoratore che non può fare più nulla gli facciamo fare il call center ah il call center eh sì e chi si interessa l'Inail con un progetto con un progetto dove ci sono delle persone che seguono il lavoratore c'è l'assistente sociale ci sono i medici ci sono gli ingegneri che studiano il caso e dicono eh ma tu vuoi continuare a lavorare certo alcuni dicono di no altri dicono di sì se dicono di sì noi subito ci diamo da fare ma non solo questo è un aspetto poi torna a casa e non può salire la casa non c'è l'ascensore come faccio a salire senza gambe eh raga l'Inail finanzia anche gli ascensori se non ce ne sono l'abbattimento delle barriere architettoniche la macchina domotica si dice automatica e quello l'inserimento sociale e il lavoro sociale e come è quello non può uscire non c'ha gambe più eh me gli diamo innanzitutto tutte le protesi in grado di farlo camminare ma poi vuole pure avere una macchina automatica e gliela diamo con il cambio automatico ci interessiamo di noi tutto di tutto noi e poi vuole fare pure palestra vuole partecipare ai giochi eh che organizza il CONI bene se se hai se hai voglia ti aiuteremo noi e che assicurazione è questa? Assicurazione privata? No assicurazione privata ti paga e ti già arrivederci l'assicurazione pubblica che è l'Inai ti garantisce tutto quindi caspita allora esiste questo ente che si che si fa che si interessa di tutte queste cose sì esiste questo ente che garantisce soprattutto i lavoratori che ogni giorno escono da casa per andare a lavorare ma che purtroppo 1300 1300 anno 2021 non ritornano più a casa perché perché sono morti cinquecentosessantottomila cinquecentosessantottomila si infortunano allora veramente un fenomeno e si chiama fenomeno perché è un fenomeno e nessuno riesce a combattere sto fenomeno nonostante ci sono tutti gli enti sempre rivolti enti associazioni di categoria c'è un mondo che lavora per vedere se diminuiscono gli infortuni ma ahimè tranne gli anni della pandemia capite perché siamo stati tutti fermi la gente non si è mossa da casa ovviamente 2020 e un po' anche nel 2021 gli infortuni sono diminuiti ma non c'è l'efficacia della riduzione l'efficacia si avrà soltanto quando tutti insieme miriamo un unico obiettivo attraverso formazione e prevenzione non dimenticherò ma non mi stancherò mai di parlare eh vabbè ma è formazione e prevenzione che caspita vuol dire formazione e prevenzione ve lo faccio capire adesso andiamo avanti analisi di infortuni analizziamo ora i dati infortunistici non sono solo numeri questi adesso vi dimostrerò cosa sono vabbè ovviamente per capire le statistiche vi voglio fare solo due concetti perché non vi voglio annoiare ci sono cinquecento seicento quarantotto mila infortuni nell'anno ci sono registrati ma come infortunio che caspita cos'è quando c'è un infortunio ci sono due macro categorie di infortuni gli infortuni avvenuti si dice in occasione di lavoro lo dice la parola stessa infortuni avvenuti in occasione di lavoro e sicuramente avrete sentito parlare di infortuni in itinere e che vuol dire due macro categorie infortuni in occasione di lavoro ovviamente sono quelli più numerosi quelli che accadono nell'ambiente lavorativo quelli che accadono perché sto espletando la mia mansione lavorativa quelli che accadono perché comunque sono nell'azienda a fare qualcosa di attinente al lavoro che sto svolgendo non certo se io mi prendo a botte con uno che sto nell'azienda quello non è infortunio è ovvio ma devo fare qualcosa nell'azienda anche se sto lavorando su una scala oppure qua nella scuola e sto e purtroppo scivolo cado ma sto in un ambiente lavorativo quello è un infortunio e sono ovviamente la maggior parte dei casi ma ahimè ahimè ci sono gli infortuni in itinere andiamo avanti andiamo infortuni in itinere che parliamo di 80.000 infortuni all'anno ma sapete quali sono? Quelli in cui ogni giorno il lavoratore esce da casa con la propria macchina e va al lavoro quindi gli infortuni che avvengono sul tragitto casa lavoro o viceversa e vabbè ma anche se non stanno lavorando no ma stanno andando al lavoro con la propria macchina perché i bus non ci sono attenzione perché i treni non ci sono o perché se ci sono mi fanno arrivare con un'ora di ritardo allora in quel caso l'uso della mia macchina mi è consentito per cui se mi succede qualcosa durante la strada si chiamano infortuni sulla strada l'Inail li tutela però ovviamente a quelle condizioni io sono di squinsano faccio squinsano brindisi ogni giorno con il treno se per puro caso decido di andarmene con la macchina se mi accade qualcosa sulla superstrada l'Inail a me non mi tutela questo è l'esempio perché la prima cosa che mi dirà l'Inail sarà amico mio perché te ne vai con la macchina bello comodo tranquillo quando c'è il treno e a che ora ti fa arrivare alle otto e allora se con il treno arrivassi alle nove allora io sarei giustificato quindi è un po' particolare l'istruttore sugli infortuni che a voi non interessa a voi interessa il concetto perché che vi farò vedere e vi farò capire perché 83 mila 83 mila infortuni ovviamente parlo sempre a livello nazionale è inutile che andiamo perché i numeri si fanno a livello nazionale può andare avanti grazie non va? Eccoli qua vi ho fatto una sintesi no? In occasione di vi ho fatto i due concetti infortuni in occasione di lavoro e infortuni in itiner in occasione di lavoro vedete nel 2021 totali totali 564 mila infortuni santo cielo enormi in occasione di lavoro 480 mila di cui 464 mila senza mezzo di trasporto vuol dire che sto nell'azienda è successo di tutto ma è successo comunque nell'azienda nell'impresa nel mio laboratorio artigiano però in occasione di lavoro con mezzo di trasporto ma sono gli infortuni in itiner? No quali sono? Sono quelli quelli di cui sono quelli dei lavoratori sono quelli dei lavoratori che utilizzano la macchina come mansione e chi sono? E gli autisti per esempio no? I rappresentanti non usano la macchina per svolgere il loro lavoro e quindi sono in occasione di lavoro e quindi comunque è un infortunio quello di 15 mila 761 che sono accaduti sulla strada sto insistendo tanto sulla strada perché comunque dopo vi aggiungo vi aggiungo i 59 mila 179 in itinere che sono avvenuti sulla strada e mi chiedo e signori e perché tutti gli anni tutti gli anni si registrano 15 più 59 70 80 mila infortuni sulla strada? Secondo voi perché si registra? E vabbè perché comunque doveva accadere l'incidente sulla strada ci sono pericoli tutto? No io non sono convinto che dovevano accadere io sono convinto di un'altra cosa che se magari stiamo più attenti alla guida se magari quando guidiamo dice ma no non ci interessa interessa solo i lavoratori interessa anche voi interessa anche voi perché la macchina o il monopattini o la bicicletta la prendete la utilizzate pure voi però se si utilizza o in discoteca il sabato ci andate pure voi con le macchine e ahimè quanti ragazzi non non tornano più il sabato il sabato notte alle tre perché comunque non si sa per quale motivo con la macchina sono andati a sbattere su un albero ed è finita con la macchina sono caduti in un canale ed è finita parliamo di ragazzi parliamo di voi e perché forse perché non sono stati attenti nella guida forse perché alle due di notte quando uscivano dalla discoteca erano cotti avevano bevuto avevano assunto sostanze stupefacenti e allora se forse levitiamo queste sostanze che succede aumentano gli infortuni di notte quando torniamo a discoteca o diminuiscono o addirittura spariscono secondo voi ma forse se iniziamo a capire e avere dentro questi concetti un domani se mi trovo in discoteca all'uscita e magari sono l'unico che non ha bevuto a tutta la compagnia io dirò guardate voi siccome vi vedo un pochino che state strani è meglio seguito io sono integro non ho bevuto non ho assunto nulla così arriviamo tutti a casa e questa è la cultura della prevenzione i numeri che noi guardiamo 80.000 infortuni all'anno e perché così tanti perché evidentemente ahimè parliamo di lavoratori e pure loro correvano per strada per arrivare subito tengo devo timbrare alle 8 come faccio 150 all'ora boom ma si poteva evitare certo che si poteva evitare come ti alzi un po' più presto la mattina e te ne va più con calma al lavoro e non ti accadrà nulla o no o sto sbagliando che ne pensate voi questo io oggi sto cercando di farvi capire poi chi è l'INAIL chi non è l'INAIL le statistiche i numeri cambiano tutti gli anni ma è importante capire perché accadono e come fare per non farli accadere perché se io in ai c'ho la missione che devo ridurre il fenomeno infortunistico che faccio a parole lo dico o devo mettere in campo delle azioni in grado di raggiungere l'obiettivo devo mettere in campo le azioni e quali sono le azioni la prima principazione di tutto è la promozione della cultura della sicurezza non solo nelle aziende dove comunque c'è un'altra strada e dove ci sono i finanziamenti che l'INAIL fa le aziende per promuovere la formazione anche i lavoratori che già lavorano adesso ma anche e soprattutto nelle scuole ebbe se parliamo di cultura io devo parlare a voi devo parlare ai ragazzi devo parlare nelle scuole che forse dopo questo intervento di oggi forse a qualcuno di voi rimarrà in mente questo discorso di oggi e magari quando andrà sul monopattini senza sfrecciare a 300 all'ora senza sfrecciare a 300 all'ora magari mi ricordo che là mi potrebbe accadere qualche cosa muo vado più piano idem con la bicicletta idem in palestra senza che mi scateno appena arrivo in palestra mi sono liberato la lezione non ce la facevo più e mi scateno anche in palestra bisogna comportarsi bene anche all'uscita quando suona la campanella bisogna comportarsi anche quando sto in classe altrimenti può accadere sempre di tutto e di più con le conseguenze è ovviamente poi che non augura nessuno detto questo vai i 500 i 564 mila noi sappiamo anche dove accadono no? perché avete scoperto i settori principali i grandi macro settori sono industrie e servizi agricoltura conto stato ci sono tutti gli impiegati pubblici ma perché pure gli impiegati si infortunano gli impiegati che lavoro fanno la penna il computer no sì docenti i docenti i docenti delle scuole sono assicurati anche all'INAI non tutti però solo quelli che fanno attività manuale e quindi i professori di ginnastica sono assicurati all'INAI i professori che fanno laboratorio sono assicurati all'INAI i professori che utilizzano strumenti tecnici anche il computer che sono lezioni d'inglese con il computer comunque non è assicurato il professore che entra in classe e che parla e che fa la lezione quello non è assicurato però i docenti questi docenti esercitazioni teorico e pratiche laboratori ginnastica sono assicurati all'INAI lo sapevate non lo so fermo restando che ci sono 64 mila infortuni per conto dello stato conto dello stato significa gli impiegati statali significa scuole significa impiegati dei ministeri significa tutto il mondo eh ma pure sono tanti pure quelli i settori poi dell'industria e servizi che è un grande macro settore dove accadono più infortuni ve lo dico solo per conoscenza le attività manifatturiere 89 mila infortuni i trasporti che con i camion autocarri infortuni sono tantissimi la sanità e l'assistenza sociale e lì che non si era mai visto quel dato negli ospedali case di cura 52 mila perché così tanto e lì si capisce subito no perché lì ci sono stati due anni di pandemia dove negli ospedali primo purtroppo sono morti parecchi medici e infermieri ma molti hanno avuto pure il contagio quindi sono stati a casa ma sono stati in infortunio perché comunque il contagio covid in ospedale era tutelato dall'INAI e tutelato dall'INAI e le costruzioni dimenticavo le costruzioni che il settore per eccellenza dove comunque vedete sono di meno sono di meno però vi posso garantire che sono i più gravi perché quando parliamo di costruzioni parliamo di edilizia parliamo di cantieri civili parliamo di cantieri pubblici e ahimè quando si verifica un infortunio a conseguenze spesso letali perché c'è gente che cade dai ponteggi quante volte dalle gru da ultimo il caso di quei due poveri lavoratori che stavano a torino sulla gru sta caspita di gru è sbandata e sono caduti a terra ovviamente con un'altezza di 15 metri non hai scampo qua ve l'ho scritto ma non si vede era esattamente tutto quello che vi ho detto a parte però una cosa vedete non so se riesco a puntare la luce dove ok vi faccio vedere solo questo dato anno 2000 anno 2021 anno 2021 1361 infortuni mortali anno 2020 non si vede sono stati ancora di più perché nel 2020 sono stati tutti i morti purtroppo tutti i morti della sanità non avete dimenticato cosa è successo negli ospedali l'INA li ha tutelati tutti quanti medici e infermieri eh sia degli ospedali sia delle RSA dove ahimè sono morte parecchie persone però non ha importanza adesso no mille e cinque mille e due è il numero che ci deve far pensare infortuni mortali anno 2021 1361 sapete cosa vuol dire più più di tre morti al giorno cioè persone che erano andate a lavorare e che non torneranno mai più a casa non si può accettare un dato del genere e quindi dobbiamo ancora sempre di più continuare con le nostre azioni di prevenzione con la formazione non finirò mai e poi mai di stancarmi perché è importante dobbiamo partire da voi dobbiamo partire da voi un domani ci sarete voi a lavorare e quando arriverete per la prima volta nel mondo del lavoro la prima cosa che dovrete chiedere si chiama una sola la formazione vieni devi fare la devi utilizzare questa macchina e beh e non mi vuoi dire come funziona e non mi vuoi dire che rischi tengo quando l'adopero e non mi vuoi dire come che devo stare attento a certe cose casomai non le capisco e poi mi e poi mi si prende il braccio e me lo strappano e poi vengo risucchiato nel macchinario e muoio ve la ricordate che la ragazza di Firenze e come mai è morta quella aveva fatto quelle operazioni cento volte ma l'azienda si era dimenticata di mettere un interruttore che appena un sensore un sensore sarebbe bastato un sensore per evitare che quella ragazza madre tra l'altro morisse in quel modo trascinata e risucchiata nell'impianto perché si poteva evitare ma quella stava ma era impossibile per forza dove no no bastava solo l'attenzione in questo caso dell'azienda andiamo avanti eccoli qua nel 2021 quasi capisce meglio 1361 infortuni mortali in occasione di lavoro quali sono ve l'ho detto prima quelli che sono accaduti nell'azienda nelle imprese e o comunque o comunque sempre in occasione di lavoro con un automezzo con un autocarro gli autisti sono questi eh 204 infortuni mortali con mezzo di trasporto sono quelli che usano la macchina o l'autocarro o il camion perché ci lavorano e quindi in occasione di lavoro però pure quelli eh ci sono stati 204 infortuni mortali purtroppo e per non parlare addirittura di questi qui di quelli casa lavoro lavoro che sto andando a a lavorare eh non torno più a casa perché ho avuto un infortunio mortale con la macchina o 211 casi ma secondo voi c'è il metodo il il modo di diminuirli o di farli o di tentare di farli diminuire eh secondo me sì come si chiama quel modo ehi ragazze come si chiama il modo per diminuire gli infortuni sulla strada c'è un modo come si chiama forse attenzione forse formazione forse conoscenza forse informazione forse formazione sì sì perché un domani vi troverete voi che magari per raggiungere il posto di lavoro non c'è treno non c'è busso e ve ne dovete andare con la macchina e come ve ne andrete con la macchina a 200 all'ora o piano piano vabbè che me ne frega arrivo con cinque minuti di ritardo ma arrivo vivo vivo e vegeto e salvo o no o vi dimenti o vi dimenticherete di questo discorso che stiamo facendo oggi è impossibile dimenticarsi altrimenti vuol dire veramente la massima superficialità nei comportamenti che pure quella ahimè pure quella vedrete che ha un ruolo importante superficialità la negligenza e perché la gente è negligente perché superficiale perché non ha le basi le basi di conoscenza la conoscenza da sempre è stata l'unica fattore che mi fa che mi fa che mi dice come mi devo comportare se conosco decido e mi comporto se non conosco come viene viene così mi hanno sempre detto di fare e così faccio e che t'hanno detto ah io con la macchina posso pure andare a 150 all'ora tanto a me a me non accadrà mai nulla ah 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 caspita che bella conoscenza vogliamo continuare su quella strada o vogliamo iniziare a pensare anche quando quando torno a casa come mi devo comportare magari quando accendo il fondo che mi sono lavato i capelli e magari mi asciugo le mani e sto attento che non ci sia acqua altrimenti posso rimanere folgorato oppure io studente che torno a casa non lavoro però posso rimanere folgorato perché sto usando il fondo oppure vado a mettere una presa e non sto attento a come la metto a dappertutto devo stare sempre con le orecchie tese e attento perché dove meno te l'aspetti se non stai attento stare attento sapete cosa vuol dire vuol dire proprio questo vuol avere dentro di sé dentro la cultura della prevenzione che non vuol dire che devi per forza lavorare per sapere come ti devi comportare anche voi ragazzi se avete dentro questa cultura ve la porterete sempre dietro in qualsiasi frangente vi servirà sempre perché vi vi ricorderete di tutte le regole di tutte le attenzioni che dovete tenere nella vita perché nella vita bisogna avere bisogna sapere e capire sempre prima quello che accadrà dopo altrimenti starete sempre un passo indietro perdonatemi se mi sto non lo so ma è che vediamo e vi ho fatto questa sintesi negli ambienti di lavoro più del c sono importanti più del 50 per cento degli infortuni più del 50 per cento degli infortuni sapete come avvengono è uso di attrezzi di materiali e di sostanze oppure nell'ambiente di lavoro in particolare le cadute sulle superfici di transito e la gente cade nei cantieri pure camminano e perché non hanno osservato certe regole inciampano e cadono quello infortunio in un cantiere vado sulla scala e ci salgo così senza chiamare uno si scusa mi tieni la scala di dietro che insomma si muove e cado no salgo come va va anche quando uno sale sulla scala deve stare attento perché la scala se non è fatta a regola d'arte se non c'ha i piedini sotto scivola e mi trovo a terra quando mi trovo a terra o sono morto o non cammino più e quindi anche questo come accadono gli infortuni dai ponteggi dalle passarelle i ribaltamenti dei trattori quante volte avete sentito trattore ribaltato il conducente è rimasto schiacciato ebbè e quello non lo sapeva che non poteva magari prendere un percorso sulla terra che stava un po' alta che poi il trattore si è ribaltato io vi rispondo beh o non lo sapeva o non è stato attento perché comunque si poteva evitare e perché non l'ha evitato e perché non ha la formazione necessaria per evitare formazione e io mi sono preso la briga di andare a vedere quest'anno a brindisi di infortuni mortali che sono accaduti queste sono le modalità si chiamano di accadimento e gente stava tracciando delle linee per la realizzazione di una scala ed è caduto accidentalmente dall'impalcatura risultato morto si poteva evitare come che si poteva evitare e come se fosse stati se fossero stati più attenti nell'allestimento della dell'impalcatura magari stando più attento magari facendo l'operazione in due in tre no stava da solo nel collegare i tubi di un gasdotto sono lavori normali eh non è che sono lavori che richiedono chissà operai stiamo parlando di operai veniva schiacciato da due tubi a causa di una manovra errata della macchina posa tubi e nessuno c'era che ha detto a quello lì che la macchina doveva stare lontano che non si doveva avvicinare molto che comunque dovevano stare attenti non c'era nessuno non c'era nessuno il lavoratore che fine ha fatto è morto dubbi enormi che lo hanno schiacciato perché nessuno ha pensato di utilizzare la macchina in maniera adeguata e perché chi guidava quella macchina evidentemente non era formato è stato non è stato attento è stato superficiale è santo cielo ma è morta una persona però mentre saliva sul trabattello questo poi è assurdo questo è assurdo i colleghi dell'ispettorato del lavoro cioè è assurdo nel tentativo di aggrapparsi ha trascinato come se l'impalcatura l'impalcatura gli è arrivata sopra e l'ha schiacciato perché non perché non doveva salire di là ci sono le scale a parte e uno sale sulle scale che sono poggiate sulla l'impalcatura non devi mai salire dalla parte dell'impalcatura era un geometra a lecce ma era di brindisi questo poi guardate questo durante la manovra con un muletto sapete cosa sono i muletti no quelli che caricano la roba pesante e la portano sugli scaffali dietro ha innescato involontariamente la retromarcia investendo un altro collega ma si poteva evitare questo questo grazie a dio non è mortale però però è grave e scusa con il muletto non stai attento se va a marcia indietro che dietro c'è un altro collega ma come si fa come si fa a fare a fare provocare a provocare questi infortuni con la massima superficialità la massima negligenza la massima scusate mancanza di formazione c'è poco da ridere nello scendere una scaletta semplicemente una scaletta metteva il piede in fallo e cadeva al suolo questa è che cosa servono questa descrizione a che cosa serve a perdere tempo o a capire che qualsiasi infortunio secondo me si può evitare ma come a parole come lo sto dicendo io no si può evitare solo se gli attori principali e cioè i lavoratori da una parte e le aziende dall'altra iniziano a mettere in campo i comportamenti necessari si parla di comportamenti si parla per questo scusate si parla sempre di formazione per cui c'è pure l'uso dei mezzi di trasporto e andiamo avanti perché se no poi sto prendendo troppo tempo ma questi sono più di tutti più di tutti quelli che si possono evitare per i motivi che vi dicevo prima andiamo avanti è inutile che vi do i numeri i decessi occasioni ecco le cause la principale causa la principale assenza di una cultura della prevenzione dei rischi da lavoro che sono considerati tanto doveva accadere perché no inevitabili con l'attività non sono inevitabili questa mancanza di cultura ovviamente e sia da parte dei lavoratori e da parte delle aziende allora i lavoratori che fanno che non conoscono che non sono formati non osservano le norme di sicurezza per comodità per picrizia o non conoscenza del pericolo e allora si comportano così come viene viene oppure sono superficiali nella valutazione del pericolo le aziende invece eh beh le aziende hanno ovviamente una parte maggiore di responsabilità purtroppo perché spesso non parliamo delle aziende medie delle aziende grandi che sono strutturate che hanno un'organizzazione proprio della prevenzione ormai pure nelle aziende grandi c'è un'organizzazione speciale mirata alla prevenzione parliamo delle piccole delle micro piccole e medie medio basse aziende dove non sanno manco che cos'è la prevenzione eh un mondo c'è un il novanta per cento delle aziende italiane sono piccole micro e media è lì che bisogna intervenire con la formazione e quindi eccolo là la mancata formazione del personale è un fenomeno molto rilevante perché riguarda soprattutto le micro piccole e medie imprese che rappresentano il novantacinque per cento della nostra economia lì si deve intervenire come e soprattutto adesso leggevo una svista dove adesso il lavoro precario ormai è diventata la normalità tutte le aziende la maggior parte ormai assumono in maniera precaria e quindi immaginate questa attenzione alla formazione basta pensare pure a quelli che portano in giro non come si chiama i driver no i ragazzi che portano in giro le pizze le cose chi li forma quelli nessuno e ovviamente non dimentichiamo la causa altra principe è il lavoro nero qua nell'Italia meridionale ma non solo il lavoro impera il lavoro nero il lavoro nero sapete cosa vuol dire che di quel famoso discorso che ho fatto all'inizio di assicurare di assicurare i lavoratori che svolgono attività manuale alcune aziende hanno nessuna intenzione non se ne fregano nulla per cui ingaggiano le persone a nero a nero vuol dire che non esistono vuol dire che non gli faranno mai nessun intervento di formazione vuol dire che saranno sfruttati a livello lavorativo vuol dire che non avranno mai nessuna attenzione nei confronti del lavoratore assunto in nero perché comunque interessa soltanto il prodotto finale cioè spremerlo quanto più possibile per ottenere il risultato finale a scapito di qualsiasi esigenza formativa e quindi è più facile che accadono gli infortuni anche per quello soprattutto quando il lavoro è a nero o irregolare e quindi la formazione l'importanza dall'analisi degli infortuni che non abbiamo perso tempo emerge l'imprudenza la distrazione la fretta l'inesperienza a volte la troppa sicurezza troppa sicurezza che vuol dire è quello operaio di 60 anni operaio edile che sta sul ponteggio ma io ho un'esperienza eccezionale vado e vengo sul ponteggio a occhi chiusi perché ormai io sono il più bravo di tutti quando c'è una caduta da un ponteggio sapete cosa sono i ponteggi no? In palcature le statistiche ci dicono l'età media delle persone che cadono degli operai che cadono a un ponteggio sapete qual è? 60 anni perché perché quello è troppo sicuro e nessuno gli ha mai detto si è permesso di dire oh stati un po' attento quando sali sul ponteggio mettiti la cintura fai bene i parapetti stai attento a come cammini e invece no a me non accadrà mai nulla e invece quando cadono dai ponteggi l'età media degli operai è sessant'anni eccoli là infortuni mortali su strada guardate quanti sono duemila e ventidue al trenta settembre duemila e ventidue abbiamo registrato trecento trentadue ancora quest'anno infortuni mortali fino alla fine dell'anno arriveremo sempre intorno ai quattrocento si possono evitare è certo che si possono evitare vai infine ovviamente noi stiamo qui nelle scuole per sensibilizzare questo aspetto oggi voi non dovevate imparare nulla dovevate soltanto ascoltare e capire qual è l'importanza della formazione qual è l'importanza della cultura della prevenzione perché comunque ve la troverete un domani quando vi troverete anche voi nel mondo del lavoro e quindi cosa fare sulla strada per esempio io mi sono permesso di fare i rischi si prevengono semplicemente rispettando alcune regole come il limite di velocità la non assunzione di sostanze alcoliche il non utilizzo dei cellulari quanta gente vedo tutti i giorni nella macchina che sta smanettando il cellulare è santo cielo è chiaro che poi prima o poi fai l'incidente sui cantieri le impalcature devono essere fatte come si deve bisogna usare i parapetti le ringhiere le cinture di sicurezza altrimenti poi ogni tanto qualche tuno cade in campagna ovviamente bisogna stare attenti con l'utilizzo dei trattori perché pure quelli sono parecchio rischiosi e devi stare attento a come li guidi devono essere ovviamente tecnologici devono avere la copertura sopra eccetera 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 la prudenza non è mai troppa e la sicurezza non è mai abbastanza il cerchio si chiude è inutile che lo guardiamo il cerchio si chiude l'inail proprio perché sa che ci sono tutti questi infortuni cosa come come ho iniziato io formazione e prevenzione formazione a parole no con i finanziamenti a chi alle associazioni di categoria alle aziende l'inail finanzia i progetti di formazione per far sì che questi soldi siano indirizzati alle figure principali che si interessano di lavoro che sono anche qui nelle scuole gli rls gli rspp e i lavoratori perché abbiamo dimostrato che non si finisce mai di fare formazione ai lavoratori per cui l'inail aiuta e non è solo l'assicurazione addirittura dai finanziamenti eh sì dai finanziamenti per incentivare la formazione e dall'altra parte la prevenzione come la fa a parole anche lì vai avanti anche lì ogni anno dal duemila fino a oggi l'inail fa dei bandi rivolti al le infortuni dove accadevano micro piccole e medie imprese e quindi l'ina che sta facendo tutti gli anni bandisce un concorso di finanziamenti a fondo perduto destinati a chi? A quelle imprese micro piccole e medie che fanno dei progetti in cui dimostrano che nella loro azienda hanno adottato misure di sicurezza rivolte alla eliminazione o se non è possibile eliminare almeno alla riduzione dei rischi e vi pare poco? E quale migliore occasione di questa? Addirittura linea che dai soldini alle aziende per dire impresa agricola ti vuoi cambiare il trattore di cinquant'anni fa e te ne vuoi fare il coltivatore diretto e te ne vuoi mettere uno nuovo tecnologico? Sì allora fammi un bel progetto dove mi fa vedere lo scopo di questa finanziamento dove mi fa vedere cosa farai e dove mi farai vedere che soprattutto i rischi che tu hai nell'impresa o li riduci o li elimini grazie ai soldini che ti dà l'INAI questo è l'INAI e ho concluso e mi scuso se ho sforato ma io sono preso perché è un'occasione ripetibile ragazzi formazione e prevenzione grazie per l'attenzione. Un saluto a tutti voi.